Tra poco Sul canale 17 di Fanno TV, l'informazione locale Tra le proteste e le polemiche, domani i profughi lasceranno la città di Fanno Sono quasi 30 anni che un giovane disabile non può recarsi alla tomba del fratello, al cimitero centrale La madre lancia un appello L'Alma Juventus Fanno vince contro la Fermana e si avvicina alla capolista maceratese Buonasera e benvenuti a Occhio alla Notizia L'avete sentito nei titoli, domani i profughi lasceranno la città di Fanno per andare ad Acqualagna E fanno ancora discutere le proteste che si sono verificate davanti all'hotel proprio sabato A causa del distacco dei servizi da parte del gestore dell'hotel Che non aveva ricevuto i pagamenti dovuti da parte dell'associazione che gestisce i profughi Vediamo il punto di questa situazione nei due servizi realizzati da Simona Zonghetti Niente acqua, luce e gas ed è subito scattata la protesta dei profughi Ospitati al plaza Lido di Fanno Erano le 12.45 di sabato mattina Quando alcuni di loro, circa 25 persone Hanno bloccato il traffico in viale Cairoli sedendosi sull'asfalto Il proprietario dell'hotel Alessandro Calamandrei Ha scelto infatti di staccare le utenze nella struttura per due ore A causa del mancato saldo del conto del soggiorno dei ragazzi I profughi di età compresa tra i 18 e i 28 anni Provenienti dal Pakistan, Bangladesh, Nigeria, Gambia, Senegal, Emali Stanno trascorrendo nell'albergo le ultime ore Domani infatti verranno trasferiti all'hotel Domus Marie ad Aqualagna Io contendi il sistema, il sistema che questo non è accoglienza Lei comunque gli aveva avvisati sabato che avrebbe staccato l'hotel Sicuramente, alle 10 gli ho detto guarda fatti una doccia Che praticamente fra un'ora c'è stato tutto E ho avvisato un gruppo e dico tu ridillo agli altri Ma la cosa si sapeva da qualche giorno Dico se voi se non pagate io praticamente blocco i servizi Non posso continuare a pagare dei servizi che non mi vengono rimborsati Quanto deve avere lei? Complessivamente sono 25-26 mila euro Quindi fa difficoltà a sua volta a poter garantire i servizi? No, ha difficoltà nel garantire i pagamenti del coro Ho chiesto stamattina un frazionamento per il gas Questi il mese di dicembre hanno consumato 3.855 euro di gas Quindi non si può dire che sono stati a freddo, non si può dire di niente I ragazzi come si sono comportati all'interno della struttura? Io come qualcuno di loro mi è andato fastidio Perché parecchi di loro vengono a mangiare a casa mia Hanno le ricariche telefoniche, sigarette, soldi per comprare sigarette Ah, usufruiscono di una password per avere il wifi in tutto l'albergo E allora mi sembra, io sono costretto a stare qui 10-12 ore al giorno Perché hanno bisogno di tutto Il signor Calamandrei sostiene inoltre che l'associazione Incontri per la Democrazia Non sia stata all'altezza del compito affidato gli dallo Stato Non c'è mai nessuno, ma non c'è mai nessuno nella realtà E poi c'è un operatore ecologico Che io non so se si può chiamare tra di quali Perché è uno straniero che parla in italiano incomprensibile E l'altra sera sono venuti i carabinieri Sono presi con lui Diciamo lì che ci sta a fare qui Che ci sta a fare se è anche incavorato un carabiniere Perché praticamente non ci sono, non esistono Ci sono uno tantum La cosa basilare che sento di me è che non c'è assistenza Se non c'è assistenza non c'è accoglienza C'è dunque un'area pesante tra il titolare del plaza e l'associazione che li gestisce Un operatore di incontri per la democrazia ha voluto precisare la loro posizione Affermando che non hanno nulla di cui rimproverarsi per il lavoro svolto Abbiamo fatto e stiamo facendo il possibile per i ragazzi Ci sono sempre due operatori 24 ore su 24 E quindi quello che dice Calamandrei non è vero Calamandrei ha affittato il locale, è stato sempre presente Ha solo causato problemi Spesso ha staccato altre volte anche se non come l'altro giorno Ha tolto i riscaldamenti Ha causato una serie di problemi infiniti veramente Intanto Calamandrei ha inviato una lettera al commissariato di Fano Scusandosi per l'accaduto Dopo aver spiegato in diversi punti le ragioni del suo cesto Ha concluso scrivendo Ho sicuramente sbagliato nel tentativo di bloccare un servizio di pubblica utilità Ma quale altro mezzo avevo per far conoscere la situazione? Chiedo umilmente scusa per il disagio provocato È una situazione vergognosa Annunciamo un presidio sotto l'hotel Domus Maria L'albergo in cui verranno trasferiti profughi Alloggiati al Plaza a Lido di Fano È decisa Forza Nuova che attraverso una manifestazione Intende denunciare diverse situazioni La prima dicono i soldi facili guadagnati dagli hotel con il business immigrazionista Dall'altra lo sfregio e l'arroganza di chi è ospitato dai contribuenti italiani Già abbastanza attassati Precisano che a nostro avviso sopportano con troppa pazienza questa situazione deprimente Siamo determinati a portare avanti questa lotta Concludono pertanto non ci importa se gli immigrati verranno spostati Noi li seguiremo Dopo gli avvenimenti accaduti sabato scorso a Lido di Fano Dove i profughi hanno protestato per il taglio di servizi Diverse forze politiche hanno preso una posizione D'accordo con la decisione del proprietario del Plaza Alessandro Calamandrei e il segretario della destra Fano Margherita Campanella Se ha chiuso temporaneamente le utenze al solo scopo di attirare l'attenzione nei suoi confronti Ha fatto bene, ha dichiarato Perché mai questo esercente dovrebbe fidarsi dello stato e di questo governo Che da una parte obbliga i cittadini italiani a fare solidarietà e accoglienza E dall'altra non assolve ai propri doveri di erogare le cifre messe a bilancio Forse pretendono che gli albergatori facciano accoglienza esclusivamente con il proprio denaro In questo caso non sarebbe un servizio, dice, ma beneficenza e questa non la si può imporre Esattamente come non si può imporre una convivenza forzata tra culture non sempre interagibili Comincino questi politici a dare l'esempio ospitando nelle loro case e nei loro quartieri di lusso Migranti, zingari e profughi sono sicura, conclude, che la gente comune ne seguirà l'esempio Diversamente, tacciano Ad esprimere invece una ferma condanna e piena solidarietà ai cittadini fanesi che sopportano il disagio È il segretario della lista civica Latua Fano, Francesca Cecchini È una questione molto pesante Perché comunque sia ci sta tutto in integrazione, ci sta a fargli venire Però un paese come il nostro che comunque sia sta affrontando una grossa crisi economica È impensabile che possa sostenere dei costi per il mantenimento di questi immigrati E la zona Lido, dove ci sono operatori turistici, dove ci sono attività commerciali Anche cittadini che vivono lì, si sono trovati di fronte a questa situazione non governabile Anche se dicono sì, sono controllati, c'è il controllo, però non è così Perché quello che si è verificato sabato è una cosa che penso nessun cittadino vorrebbe trovarsi di fronte Il punto è questo, che se vengono qua in Italia e sono ospitati e hanno da mangiare, hanno tutto Devono poi rendersi conto che comunque loro si devono mettere in condizioni di essere ospitati Quindi è vero che non ci sono stati tempi per fare dei lavori socialmente utili È anche vero però che se sono qua devono creare loro le condizioni di poter essere ospitati E anche perché poi il lavoro non ce n'è anche per gli italiani E quindi questi lavori socialmente utili sarebbe bene prima darli a disoccupati fanesi e anche italiani E poi magari pensare a loro Tutte le fatture trasmesse alla pubblica amministrazione dovranno essere fatte in formato digitale Scompare quindi la documentazione cartacea Ogni ente, azienda e organizzazione dovrà inviare fatture al comune di Fano Da domani dovrà farlo tramite il mezzo informatico Se l'adeguamento non avverrà entro tre mesi a partire l'assenza della fattura elettronica Impedirà all'ente pubblico di effettuare qualsiasi pagamento al fornitore Torniamo ad occuparci dell'intenzione dell'amministrazione comunale di vendere il Palazzo dell'Urbanistica Oggi sull'argomento è tornato Alberto Santorelli L'ex assessore ha inviato una lettera al sindaco Massimo Seri Chiedendo di prendere in considerazione anche Palazzo Palazzi Cioè l'edificio di fronte a quello dell'Urbanistica Oggi sede del job e di proprietà quasi interamente pubblica della provincia e del comune Secondo il consigliere di minoranza Il palazzo è dotato di ampe stanze e saloni Che potrebbero mettere sostanza alla proposta della struttura ricettiva Diventerebbe così un borgo unico secondo Santorelli Che potrebbe far decollare quel turismo tanto ricercato ma mai trovato E sono 28 anni che un ragazzo vorrebbe portare un fiore sulla tomba del fratello al cimitero centrale Ma a causa delle barriere architettoniche questo non gli è possibile Che cosa manca in questo cimitero? Manca una pedana elevatrice per i disabili, le persone anziane Che hanno diritto come tutti andare a trovare i loro cari che sono nei loculi a piano terra Lui è Alex, un ragazzo disabile che ha un grande desiderio da ben 28 anni Andare a pregare sulla tomba del fratello con il quale era molto legato A un mese di distanza dal decesso Alex fu coinvolto in un grave incidente Che oltre a provocargli diversi problemi lo costrinse a rimanere su una sedia a rotelle Le barriere architettoniche gli impediscono di accedere al piano inferiore del cimitero urbano E questo suo grande desiderio non è ancora riuscito a realizzarlo Alex ha un fratello che ci tiene tantissimo perché erano legati molto molto E vorrebbe ogni volta andare a trovare Mirko E noi siamo ad una certa età, poi a parte che è impossibile Ci abbiamo provato e con la carrozzina a farlo scendere con il rischio di farlo cadere Ma non è, ci abbiamo rinunciato Alex non è mai riuscito ad andare a trovare il fratello? Per 28 anni non è mai potuto andare a trovare il fratello Perché ha avuto un incidente un mese dopo della morte del fratello E non bastava Due drammi a distanza di poco tempo superati giorno dopo giorno con tanta forza Da parte dei genitori di Alex Ma che oggi hanno deciso di lanciare un appello Affinché il loro figlio dopo tutte le sofferenze e le difficoltà subite Possa finalmente pregare e appoggiare un fiore sulla tomba del fratello Non ho mai fatto nessun reclame perché ci accontentevamo di portarlo nel pianerottolo Lui parla a mano di Mirko, se riuscivamo a farlo vedere ma è impossibile E chiaramente viene via sempre con un grosso malcontento Perché io voglio vedere Mirko, voglio vedere la tomba di mio fratello Purtroppo non è possibile E quindi chiedo questo se non solo per altri Perché i disabili oggi come oggi ce ne sono tantissimi Per lui, per altri e le persone anziane che non ce la fanno a fare le scale Perché in primis io, perché faccio anche ora un po' di fatica anch'io Comincio perché andando avanti Però è più che altro per loro Un problema che riguarda tante persone Certo, certo, tante persone Perché chi può scendere con una carrozzina di sotto Con le scale che abbiamo Possibile che non si possa fare una pedana Ci sono tante cose per i disabili Per poter scendere un buco con una pedana elevatrice E tutti hanno diritto ad andare a trovare i loro cari Una pedana che renderebbe felice molte persone e anche Alex Senz'altro perché lui l'ha sempre desiderato Molto, molto Molte grazie Grazie mille Ciao Alex Ciao Ciao E sempre al cimitero urbano ci hanno segnalato Che al piano inferiori alcuni neon non funzionano da diversi mesi Il problema è stato segnalato più volte da parte di un cittadino Ma non è ancora stato risolto Inoltre un altro nostro telespettatore ci ha segnalato invece Che l'anfiteatro Rastat a Sassonia Sono compasse scritte anarchiche contro le forze dell'ordine E vi ramentiamo che le vostre segnalazioni sono estremamente utili e importanti Per la nostra redazione Quindi vi invitiamo a mandarci un sms o un whatsapp Al numero che vedete in sovraimpressione 338 496 8250 Oppure inviateci una mail a redazione chiocciolaocchioalanotizia.it E rimaniamo a Fano e nella zona del Porto La Capitaneria di Porto di Fano rende noto che nel periodo compreso tra il 30 marzo e il 3 aprile 2015 Dalle ore 7.30 alle ore 18 e comunque fino al termine dei lavori Nell'area parcheggio prospicente la banchina 10 del Porto di Feano Sarà interessata da lavori di carotaggio e geognostica Al fine di realizzare una stazione radiobase Vodafone e Omnitel Il Consiglio Provinciale di Pesaro e Urbino ha approvato all'unanimità il piano di razionalizzazione Delle società partecipate che prevede dismissioni e mantenimenti Tra le prime c'è l'uscita dal Consorzio del Mobile Dall'Agenzia per l'Innovazione nell'Amministrazione e i Servizi Pubblici Locali Da Aerodorica S.P.A. e dal Consorzio Navale Marchigiano che è in liquidazione E da Convention Bureau Terre Ducali Verrà invece mantenuta la presenza nella società Valori Immobiliare S.R.L. Nella Megas Net S.P.A. e in Marche Multiservizi Su richiesta del sindaco di Fano Massimo Seri è stata mantenuta anche la presenza della provincia Nella società aeroportuale Fano Fortune In attesa dell'approvazione della legge regionale di riordino delle funzioni delle province Ed ora parliamo di musica 1.500 giornate lavorative per l'allestimento dell'Elisir d'Amore a Fano e ad Ascoli Piceno Con il coinvolgimento di 130 persone tra artisti e tecnici Tutti marchigiani, eccetto il cast, per un budget di 135.000 euro È un grande successo di pubblico e critica È il bilancio della prima produzione della rete lirica delle Marche Tracciato oggi in un incontro stampa ad Ancona Nota dell'ottobre dello scorso anno con nove soggetti Che si sono uniti per abbassare i costi e accrescere la qualità delle produzioni La rete lirica delle Marche ha annunciato oggi anche l'ingresso dell'Accademia Lirica di Osimo Sono stati 200 i bambini che anche quest'anno hanno partecipato al concorso In memoria del piccolo Alessandro morto sei anni fa per l'eucemia Vediamo il servizio 200 bambini delle scuole primarie di Fano Che hanno partecipato al concorso da grande Vorrei fare l'inventore Si sono ritrovati ieri pomeriggio allo Sport Park di Fano L'iniziativa nata nel settembre 2009 in memoria di Alessandro Il bimbo morto sei anni fa per l'eucemia È promossa dall'associazione Il Piccolo Grande Alessandro Di cui è presidente la mamma Giorgia Marcelli Quest'anno sono stati due i temi su cui hanno lavorato i bambini Sia singolarmente che in collaborazione con genitori e insegnanti La costruzione di un gioco con materiale da riciclo E come vorrei la mia città I primi classificati sono quelli che hanno vinto costruendo dei plastici Su come immaginano dei quartieri della loro città Come i passeggi e la zona della scuola Nuti Come si immaginano i bambini nella città di Fano? L'immaginazione dei bambini è secondo me molto bella Spesso purtroppo un po' realizzabile visto il contesto quotidiano Loro immaginano sempre tanti parchi pieni di piante, fiori, giochi Quindi parchi giochi Insomma proprio dove loro possono correre liberamente a destra e sinistra e divertirsi Comunque sono stati premiati tutti e 200, erano in tanti? Sì, quest'anno ho 200 bambini, tutti premiati E per me hanno diritto a tutti essere premiati Perché per noi già il fatto di aver partecipato Ci dà tanto calore e vicinanza nel ricordare Alessandro Per riportare la sua testimonianza e raccontare l'intento dell'associazione Circa un mese fa Giorgia è stata invitata in un istituto scolastico Durante l'incontro con i piccoli alunni uno in particolare le ha rivolto una domanda che le è rimasta ben impressa Ma secondo te Alessandro è contento, orgoglioso di noi che partecipiamo al concorso? E io ho fatto, già è certo, è contentissimo E penso anche che durante tutto il percorso che avete fatto voi per costruire mese dopo mese Il vostro progetto lui è sempre stato lì con voi Oggi è lunedì e come sempre il calcio Ieri l'Alma Juventus Fano ha vinto contro la Fermana E ora è a meno 4 dalla capolista Biancorossa La telecronaca e gli highlights di Sergio Catalani Buon pomeriggio, buon pomeriggio di nuovo dallo stadio Mancini di Fano E' quasi tutto pronto per l'inizio L'Alma Juventus Fano che dovrebbe giocare in maglia granata Le squadre fanno il loro ingassi in campo in questo momento Fermana in maglia gialla con calzoncini E' azzurri Parte Davide Borelli al fisco dell'arbitro La palla è lì e c'è il gol E c'è il gol Nicolo Gucci Intanto c'è Sivilla, 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 limite Sivilla Sivilla il tiro Sivilla Andrea Sivilla Ma che gol Ma cosa ha fatto Sivilla E' Clemente che allontana il pallone C'è Sivilla, Sivilla solo Sivilla, Sivilla Sivilla, Sivilla, Sivilla il tiro E' ancora lui Andrea Sivilla Palla sul sinistro quindi ad Agostinelli che tenta la conclusione Il tiro Ginestra, grande intervento Proprio all'ultimo secondo Sul tiro di Agostinelli Finisce qui la partita Finisce qui Con il miracolo di Ginestra Che blinda Il risultato Su Agostinelli Doveva finire davvero così Con il 3 a 0 Bene con quest'ultima notizia è tutto Io vi ricordo che dopo il nostro telegiornale Andrà in edizione integrale La partita Di calcio E quindi grazie per la vostra attenzione E buon divertimento Arrivederci